Un ricordo di Totò. Quando lui portava i gianduiotti, me li mettevano nella gobba. E quando lui veniva, lo spettacolo finiva a ore pazzesche e poi mi portava i gianduiotti. Ma per farla addolcire o perché le piacevano i gianduiotti? Mi piacevano, mi piacevano. Com'era Totò in casa? Era diverso. Era un uomo serio, un uomo pensatore. Pensatore, diciamo che era serio, misantropo. E lui gli diceva, quando vado nel pensatoio. Signora Liliana, quali erano i suoi amici veri? Peppino De Filippo. Peppino De Filippo. Perché Edoardo era il massimo per lui. Perché era il massimo. Perché si facevano, erano un'ottima spalla insieme. Sì, un'ottima spalla. Si divertivano. Si divertivano. Ma ferma la bugiarda, va la farà! E tu stai sempre con la tua parte? T'ho fatta va. Perza la salute. Eh, la salute, la salute. Così come un'ottima spalla Elena De Curtis, la nipote del grande Totò, le chiedo, sono passati quasi 50 anni dalla morte di Totò, eppure è ancora popolarissimo. Basti pensare che in prima serata in tv ancora vengono passati i suoi film in bianco e nero. Sì, è assolutamente una cosa incredibile. D'altronde, penso a nonno quando ha iniziato la sua carriera, che ha iniziato da zero praticamente. Da zero? E non ha mai creduto che questa, diciamo, che tutto quello, la sua arte venisse così fuori, diciamo, per cui oggi a 50 anni, non ancora a 50 anni della sua morte, Totò è ancora vivo tra tutti, specialmente tra i giovani, anche i bambini, la generazione di adesso che sta a 5 anni, insomma, vivono con le battute, cioè guardano i film di Totò, è una cosa incredibile. Peccato l'unica cosa che, diciamo, per Totò, per nonno, è il fatto di essere stato riconosciuto comunque con questa grandezza dopo la morte. comunque noi parliamo di film, però l'altra cosa bellissima di Antonio De Gurtis è tutto il lato che forse è un po' meno conosciuto, come poeta, come compositore di canzone e anche come filosofo, perché ci sono dei pensieri estremamente incredibili di nonno, che ecco, come dice mamma, andava nel pensatoio e pensava e buttava giù delle frasi, diciamo, su dei suoi pensieri. C'è un film che lei preferisce in assoluto? Allora, in questo mi viene da pensare la banda degli onesti, perché, diciamo, in un momento di, diciamo, di mancanza di soldi, cioè hanno creato, cioè volevano stampare i soldi falsi, però tale era l'onestà interna che poi questi soldi non sono mai stati spacciati, anzi, andavano a comprare, facevano finta ognuno dell'altro di aver smerciato questa mille lire falsa, ma non l'hanno poi alla fine nessuno, ha avuto mai il coraggio di smerciare questa mille lire falsa, per cui è incredibile questa cosa. Signora Liliana, per chi fu scritta Mala Femmina? Per mia madre. Si diceva per la Pampanini? Si diceva. Non è vero. Non è vero. Ma Totò piaceva tanto alle donne, perché? Perché si sapeva fare e lui piaceva alle donne. Adulava le donne? Adulava. Come le conquistava? Innanzitutto con i fiori, cioè sapeva come prendere la donna dal lato affettivo, poi comunque era complimenti e poi tutto il suo modo di fare, era un gran signore per cui diciamo che le donne rimanevano estasiate da lui. Mi ricordo era a Formia, giravo alcune scene di un film, avevo su un pacchetto di sigarette, scrissi versi, poi li feci sentire al mio autista, al quale non gli piacquero, non capì niente. Alla sera poi col fischietto, feci il motivo l'aria, perché le parole stesse portano la musica, non è una cosa difficile, sapevamo scrivendo, femmina, tu sei una mala femmina, è vero. Dici ma è una musica, vediamo un po' come si fa. E senza cantarla mai, non è che la dobbiamo cantare. E mi sono un trombone quando canto, non mi faccia cantare. Voi siete qui per questo premio che è fuori dal tempo, grande soddisfazione per la città di Ustuni avervi ospitato. Eh sì, il sindaco è una persona validissima, validissima perché ha costruito questo premio e voglio dire è bravissimo, bravissimo. Sono emozionato perché chiaramente, cioè è come se in questo momento ci fosse qui il grande Antonio De Cortis che a me piace chiamare Totò perché insomma è universalmente riconosciuto per quello che è stato, è un grandissimo e io sono veramente onorato di avere qui figlia e nipote di Totò, quindi quale migliore suggello ad un'estate che ci ha visti veramente protagonisti in Puglia e la Puglia protagonista a livello internazionale per affluenza di turisti. È un evento brillante, è un evento culturale perché Totò è stato un personaggio a tutto tondo, non è stato solo un attore, è stato un artista, è stato un poeta. Diciamo chi meglio di lui può incarnare una figura fuori dal tempo così com'è la nostra città. Come chiuderebbe Totò questa intervista? Con una battuta? Con una battuta? Siamo uomini o caporali?